Ehi Davide, ma dove siamo oggi? Non siamo nel nostro salotto come al solito Ale, siamo in una scuderia per unboxare il nuovo set Peelipon Scuderia Vi portiamo a fare un giro, andiamo a vedere se ci sono i box proprio come nella confezione Ed è effettivamente così ragazzi, ringraziamo Famosa per questa collaborazione, la Magic Rainbow SD per averci ospitato in questo gioiello di scuderia E Valentina per averci accompagnato in questa avventura, averci dimostrato che in effetti il look total pink per i cavalli esistono E come l'abbiamo strigata, poi l'abbiamo lavata proprio come succede nel set Come Ale, coccolosa? Molto coccolosa Molto coccolosa Guarda, biscotto rosa a forma di stellina Ma è anche il biscotto rosa Ale, a forma di stellina? Direi che le piace L'ho conquistata Vai E poi ragazzi, passeggiando nel maneggio, guardate che abbiamo incontrato un pony adorabile con tutte e tutte le maiuscole Ma dicevo, nel set c'è veramente tutto come i premi e i trofei Andiamo ad unboxarlo Vado col tiro di scatola Vai E unboxiamo Vai Arrivo, arrivo, arrivo Scatola super con degli sticker super Ci sono un sacco di cose Fuori, fuori Fuori, fuori Montiamo, montiamo Eccomi, scelale Che carina Ma ce l'hai le forbicine? Sì Vai C'hai gli stivaletti Hai visto? E poi vediamo la seconda espressione perché sono troppo curioso E' contenta Guarda che so Ha dei bellissimi capelli Ha una bellissima coda E secondo me Ah, qua c'è il pin per attaccare il pin Perché possiamo mixare Perché mix is max Guarda, ma ci sono gli sticker sotto gli sticker Ale Guarda che bello E' bellissimo Il logo pin della scuderia I fiori Quante istruzioni Andiamo col montaggio Ed ecco la nostra scuderia È stickerizzata e personalizzata È bellissima ragazzi E quando si apre diventa un vero e proprio spettacolo Perché qua avete proprio il chiaristello Eccolo qua si apre Voilà E ora è arrivato il momento di inserirci un sacco Guardate che collezione di pin accessori Che ha Michelle disposizione per vestire la sua scuderia Ci facciamo aiutare da Michelle Eccola qua E lei stessa la andiamo a personalizzare Ci vuole un tocco floreale Ale Fiorellino qua Eh sì, come tutte le pini è accessoriabile Eh sì Poi magari in mano possiamo scegliere Sì, ecco, si le metterà la carottina Esatto Ecco qua Eccola qua Così vai a incoraggiare il cavallino Esatto Che deve prepararsi Che deve prepararsi anche lui ragazzi per la gara Abbiamo diverse Ma dico diverse Ma dico diverse acconciature Acconciature Sia della criniera che della coda Della coda Iniziamo dalla criniera Queste sono le criniere possibili Vai, ok Criniera numero uno Vai Ale, direi una criniera classica Sì, sì, sì Criniera classica Eccola qua Bella Vaporosa Petinosa Un po' trezzosa Dopo c'è la spazzola comunque Esatto Per dare un tocco Abbiamo la spazzola Anche noi abbiamo le spazzole Le spazzole della scuderia E anche in scuderia ragazzi Le spazzole sono rosa Per questa criniera Ci vuole una bella coda Una bella coda vaporosa Vaporosa Molto bella Eccola qua Eccola qua Vediamola in picam Wow Molto bella Quindi Michelle è pronta E via Ma quanto belle sono Però aspetta Michelle è un po' indecisa Vuole provare La criniera numero due Questa è quella intrecciosa Intrecciosa Direi proprio da mostra Esatto Questa direi proprio da mostra Guarda che bella E corrisponde una bella coda Una bella coda intrecciosa Una coda intrecciosa Esatto Come direi io Eccoci Eccoci qua È pronto Adesso Prova Prova Facciamo la prova Eccola qua Ops È caduta Michelle Mi raccomando state sempre attenti Quando cadete E salite sul cavallo La conciatura fresca Sì 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 Però per la gara forse Per la gara forse non è quella data Infatti guarda Michelle È indecisa Vuole provare La conciatura numero tre Oh questa è molto più ventosa Questa si è sbarazzina Questa è sbarazzina Si vede proprio durante la gara Faccio così con la mia criniera E sono pronto Guarda preparo Anche la coda è un po' più al vento Esatto Un pochino Io preparo già gli ostacoli Guardaci qua Questa va bene Wow Sì Vediamo vediamo Un po' più distanziati Un po' più distanziati Hai ragione giusto Vai pronti Pronti vai Uno Due E no Gli ho messi troppo vicini ragazzi Ecco perché Mancavano le briglie ragazzi Si devono prepararci bene Vai Michelle Oh inserite le briglie Perfetto Ale Ecco perché quindi Nella criniera C'erano degli spazi appositi Giustamente Per mettere Per mettere le briglie Esatto Perfetto Ottimo Così ci sta proprio bene Abbiamo un pedicam Eh adesso si Vedete Aspetta che la coda è stata La coda No Non si può correre senza coda Dopo le briglie È arrivato il momento dei ferri Eh sì Se non può correre E no Deve prepararci bene Per questa competizione ragazzi Eccoci qua Guarda come le calzano un pennello Ale Sopro bene Nel frattempo ci stanno passando Dei cavalli alle ragazzi Di fronte a noi Dato onde siamo in scuderia È bellissimo Ecco Guarda che bello Wow Vai Michelle Sei pronta Pronta via Uno due tre Vai Uno due E tre Ottima Bravissima Abbiamo vinto Brava Michelle Per te c'è una coppa Con tanto di pimpini pon Da poter mettere sulla tua manina Mentre per il tuo cavallo Michelle Abbiamo la ghirlanda Eh sì ragazzi Le prime azioni vanno fatte seriamente Brave Complimenti E dopo questa grande vittoria Ci vogliono due coccole in scuderia Eh sì Eh sì Ci vuole un po' d'acqua Michelle Eccoci qua per il nostro cavallo E andiamo a fare una bella doccia Faccio notare Ale i dettagli Guarda il pavimento della doccia Hai visto? È tutto pinnipon anche questo È bellissimo Ha le bolliccione di sapone Veramente fantastico Guarda le piastrelle Belle Belle Ma soprattutto è funzionante C'è un tubo Con tanto anche di aggancio Di modo che si possa agganciarli sopra E dall'altra parte Andremo ora ragazzi Vai Ale A metterci l'acqua E a far funzionare la pompa Mettiamo l'acqua Eccoci qua Perfetto Vai guarda Ma è fantastico Proprio come qua in scuderia Si lavano proprio così i cavalli Vai Adesso è arrivato il momento Della torettatura ragazzi Per cui usciamo dalla nostra doccia E andiamo in questa zona qua Dove abbiamo specchiera Abbiamo la con Abbiamo le spazzole Guarda lo specchio come specchia Eh sì Guarda che bello Andiamo con la spazzola Vai Ecco di qua Oh perfetto Asciughiamo qua anche la coda Esatto Oh benissimo Sì 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 Perfetto Un po' di spray Un po' di spray Per mantenere la criniera Esatto Un po' di nozione Per la criniera lucida Ed eccoci nella sala dei trofei Dove Michelle può riporre la coppa Che ha appena vinto E dove abbiamo anche la ghirlanda Adesso cavallo Ci sono anche le coccarde Perché Michelle ha fatto una bella carriera Devo dire C'è anche la carotina Che ha dato prima E abbiamo anche il posto Per riporre i nostri ostacoli E anche un bel cassettone Pinipon scuderia Dove mettere tutti gli accessori Perché sono veramente tanti E a proposito di accessori Ale guarda il porta criniere Il porta code È veramente Veramente bellissimo Di modo che possiamo scegliere La nostra conciatura A seconda della manifestazione A cui dobbiamo partecipare O dello stile del giorno Anche il cavallo di Michelle Ha un suo outfit Perché anche Michelle Se non ha pinipon Può cambiare il suo outfit Quindi è compatibile Con tutte le altre pini E oltre a cambiare la sua espressione Potete cambiare il suo vestitino Gli accessori E così via Infine è arrivato il momento Di riposarsi Quindi il cavallo ha il suo box Eccolo qua Dove trova il suo fieno E qui Può riposarsi Dopo una lunga giornata E attenzione Dall'altra parte Il box è apribile Eccolo qua E possiamo salutarlo Michelle può fargli L'ultima coccola Dopo questa giornata E questa bella vittoria Alla scuderia pinipon È arrivato il momento della nanna E quindi di chiudere Anche la nostra scuderia È proprio posto Per tutti gli accessori All'interno della nostra scuderia Anche per quello che chiamerei Porta coda Porta criniera Aiutateci ragazzi Qua giù nei commenti Per dargli un nome A questo porta cose Di modo che Quando poi richiudete La vostra scuderia Avete tutto Tutto con voi E quindi il vostro gioco Ve lo portate letteralmente In giro E diventa una valigetta C'è anche posto per Michelle Ecco qua Che si richiude Abbiamo proprio Il signor Chiavistello Ecco qua E la nostra scuderia È pronta Per venire a giocare con noi Ragazzi Vi possiamo confermare Quindi che il certo scuderia È veramente Come essere Una vera scuderia Ringraziamo La SD Magic Rainbow Che ci ha permesso Di girare questo video Quell'interno della scuderia E di divertirci un sacco Perché è stato veramente Come stare dentro il gioco Se questo video ragazzi Vi è piaciuto Mettete un pollicione E noi ci vediamo I prossimi video Qui su Giochi Per amici ragazzi Ciao Ciao